Presentato in diretta su Cilento Channel dal sindaco di Agropoli Adamo Coppola il progetto delle spiagge libere per il 2020, un'importante attività per usufruire in sicurezza del mare agropolese in modo gratuito ma con qualche regola in più. Suddiviso in due step, il piano prevede nelle prime settimane di giugno la possibilità di usufruire delle spiagge senza prenotazione, ma si dovranno solo fornire i propri dati al personale in spiaggia mentre con l'aumento dell'afflusso turistico nei mesi di luglio e agosto la prenotazione sarà obbligatoria tramite l'app dedicata o previa prenotazione telefonica. Le spiagge di cui si potrà usufruire saranno inizialmente 8, 5 sul lungomare San Marco, 2 a Trentova e 1 a Lidoazzurro e saranno divise in spazi da 10 metri quadrati posti a 3,4 metri tra di loro e a 3 metri dalle file. In ogni spazio opposto ombrellone sarà presente un cilindro nella sabbia dove dovrà essere inserito l'ombrellone. Il tratto di litorale del lungomare verrà diviso in 5 spiagge per un totale di 1028 ombrelloni, mentre la spiaggia del Lidoazzurro ne conterà 187 e le due di Trentova, 65 e 82 per un totale di 1.362 spazi attrezzati che con una media di 3 persone a postazione si arriverà ad un'ospitalità di 4.086 persone giornaliere. In seguito verrà attrezzata anche la spiaggia della Marina. Nella seconda fase del progetto, con una maggiore presenza in città di turisti, si adotterà una prenotazione divisa in due fasce orarie, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20. Sulla spiaggia sarà presente personale addetto al controllo che verifica le prenotazioni e sanifica gli oggetti portati in spiaggia. Oltre al bagnino anche un drone di supporto per i controlli. L'utente è libero di scegliere la zona del litorale di cui usufruire e potrà prenotare ogni giorno senza limitazioni settimanali. Anche gli scogli saranno disponibili per la balneazione, perché favoriscono il distanziamento e nuovi spazi. Sarà presente anche un servizio di sorveglianza notturna e l'accesso alle spiagge avverrà attraverso percorsi prestabiliti e nel rispetto delle normative di sicurezza. L'app per il servizio di prenotazione sarà presto disponibile e utile per combattere il fenomeno dei vacanzieri irregolari, perché il turista che prenota dovrà specificare dove alloggia e solo se regolare potrà accedere alle spiagge libere attrezzate di Agropoli. Riguardo i disabili, il sindaco Adamo Coppola ha confermato la collaborazione con il Lido Raggio Verde e l'implementazione di altri spazi nei Lidi Agropolesi, fermo restando che anche le spiagge libere saranno disponibili per persone diversamente abili.